Musica Amici sportivi, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con Sport in Casa. Questa sera approfondiamo una realtà importante, l'unica squadra vicentina in Serie D. Abbiamo qui con noi il direttore sportivo del Cartigliano, Leopoldo Toresini. Buonasera direttore. Buonasera a tutti gli spettatori e grazie di avermi invitato. E allora, approfittiamo della tua presenza per fare un po' il punto della situazione proprio per quello che riguarda il mondo della Serie D. Sono arrivate indicazioni da parte della Federazione, della Lega Nazionale di Direttanti, più o meno precise. Andiamo però con ordine, partiamo dalla stretta attualità perché è notizia di queste ore. La riconferma in panchina del mister Alessandro Ferronato per il settimo anno consecutivo allenerà il Cartigliano. Allora un commento d'obbligo su questo rinnovo. Lui ormai fa parte della nostra famiglia da tanti anni e abbiamo costruito insieme una cosa veramente importante del territorio, una squadra che è partita dalla promozione andata in Serie D nell'arco di sei anni. Era doveroso, la riconferma per noi era una cosa quasi scontata, trovando sempre iniziative e stimoli nuovi in qualcosa di diverso ogni anno per costruire un qualcosa che dia anche sia ai giocatori, a noi società e a lui allenatore qualcosa di stimolante per costruire sempre nuovi traguardi possibili da poter raggiungere. Per noi è una soddisfazione grande, lui ha un entusiasmo importantissimo e noi partiamo con grande voglia di far bene anche quest'anno. Certo direttore che bissare un'annata straordinaria come quella che ha visto il Cartigliano protagonista in Serie D quest'anno, ricordiamo la formazione di Bianca Azzurra è stata a lungo prima in classifica per quasi tutto il giorno d'andata, non sarà facile. L'anno scorso è stato un anno veramente bellissimo per il paese, per noi, per tutti, perché rimanere 12 giornate prima in classifica è una cosa grande in Serie D. Andare su tutto sport, questo piccolo paese, sono soddisfazioni che rimarranno nella storia del paese. E noi con umiltà partiamo sempre per fare le cose bene, io gioco sempre per vincere e non gioco mai per perdere. Dopo, se gli altri sono più bravi, dico sempre bravi, se sono meno bravi, dico ai miei ragazzi che dobbiamo essere più bravi degli altri. L'entusiasmo non manca, cerchiamo di costruire una squadra competitiva anche quest'anno e dire la nostra nel campionato che adesso non si sa ancora cosa succederà, però noi vogliamo dire la nostra assolutamente. Ha introdotto l'argomento cruciale di questa puntata, il prossimo campionato di Serie D. Le direttive parlano del campo d'Arsego promosso in Lega Pro, quindi la prima classificata che sale di categoria, mentre le ultime quattro in graduatoria retrocedono in eccellenza. È vero che c'è tutto un meccanismo di classifiche di merito e di ripescaggi, però un commento da parte del direttore sportivo del Cartigliano su queste quattro retrocessioni, chiamiamole d'ufficio, che in un certo qual modo penalizzano le squadre che magari si stavano contendendo la salvezza punto su punto. Per quanto riguarda la promozione, penso che il campo d'Arsego l'abbia raggiunta meritatamente e quindi sia giusto che abbia questa promozione. Per quanto riguarda le retrocessioni è difficile comunque trovare qualcosa che sia giusto per tutti. Chiaramente chi ha un punto dalla quinta ultima è imbarazzante o chi ha pari punti. Vediamo da noi il Vigasio che aveva fatto nel ritorno più punti di tante squadre che erano tra le prime cinque, adesso trovarsi il retrocesso non è tanto giusto. Però era impossibile trovare un quadro che accontentasse tutti. Speriamo che ci siano dei ripensamenti, dei ripescaggi che certe squadre possano ritornare in Serie D magari meritatamente come il Vigasio, ripeto, che non meriterebbe assolutamente di retrocedere. Era difficile comunque decidere un qualcosa che accontentasse tutte le squadre. Ed è ancora difficile perché vedo che ci sono più squadre che si lamentano, però vediamo. Noi siamo in una posizione tranquilla e non ci ho mai pensato quello che era giusto o non giusto. Direttore, non hai la sfera di cristallo, però hai tanta esperienza. Allora proviamo a cercare di capire insieme come sarà il futuro prossimo del calcio dilettantistico, in particolar modo della Serie D qui a casa nostra. Partiamo dal mercato. Tu sei un grande esperto, sono famosi i tuoi colpi di mercato che hanno reso tantissimo in questi ultimi anni, ma come si farà mercato quest'estate con una situazione ancora incerta, con una crisi economica e con tanti giocatori che dovranno necessariamente ridurre le aspettative di rimborso e quant'altro? Ecco qua, il futuro è veramente incerto sotto il profilo soprattutto economico e di inizio campionato. Promettere per dopo non mantenere non è una cosa che noi abbiamo mai fatto, quindi dobbiamo essere oculati a capire dove possiamo arrivare. Il direttore deve essere più bravo degli altri anni a trovare giocatori di promozione, di eccellenza che fanno parte del nostro modo di pensare, del nostro spogliatoio. in giro vedo che ci sono tante squadre ancora che non hanno chiarezza anche loro sul loro futuro, allenarsi di sera, non di sera, quindi c'è un mercato veramente diverso. Penso che il ridimensionamento sarà quasi sicuro in generale, poi ci saranno le 4-5 squadre che hanno potenzialità enormi, quindi per loro non cambierà niente, però per la maggior parte sarà una nata difficile da inquadrare soprattutto, da capire, perché promettere è facile, dopo mantenere, arrivare a dicembre o a gennaio e dire non siamo più in grado non è una cosa che a noi ci appartiene, cerchiamo di vedere avanti prima quello che potrà succedere per quanto riguarda il cartigliano. Anche perché il cartigliano è sempre stato molto sensibile alla realtà del territorio, ai giovani del territorio, come dicevi, insomma ad attingere dalle categorie eccellenza, promozione, categorie diciamo inferiori. Quest'anno avrete forse un po' di concorrenza in più perché ci sono società importanti che stanno salendo, una su tutte il Bassano in eccellenza, verosimilmente anche lo Schio ha buone possibilità di salire di categoria, insomma non sarà facile non solo per una questione economica ma anche per una questione di concorrenza interna. Allora hai nominato due società in cui ho un bel rapporto, anche personale, dialogo continuamente. Diciamo che avere più squadre concorrenti per certi giocatori è anche uno stimolo, dopo chi è più bravo porta a casa il giocatore. Sul territorio giocatori bravi ce ne sono tanti, poi per far diventare bravo un giocatore bisogna che sia anche lo spogliatoio, l'allenatore, la società perché non è detto che uno faccia bene da una parte e anche dall'altra. Quindi c'è da valutare tante cose quando si parla di acquistare un giocatore. Noi queste valutazioni le facciamo, poi le aste non le facciamo, non le abbiamo mai fatte, cerchiamo di capire se il giocatore vuole appartenere alla nostra famiglia, al nostro modo di pensare al nostro modo di far calcio. Questo è quello che noi vogliamo dai nostri giocatori tesserati che abbiamo. Abbiamo parlato di quello che potrebbe essere il mercato, potrebbero essere le difficoltà oppure gli stimoli del prossimo mercato. Per quello che riguarda invece, restando a parlare di futuro, il capitolo tifosi. Quest'anno Cartigliano è stata la cornice perfetta di alcune delle domeniche più belle del campionato di Serie D. Ricordiamo la partita contro la Luparense, 1200-1300 tifosi, quella contro il Campo d'Arsego ancora di più. Insomma, il Paese ha risposto alla grande. Ricominciare senza tifosi che calcio sarebbe? No, io non voglio neanche pensare di cominciare senza tifosi. È un calcio che non appartiene al dilettantismo. Se manca il pubblico, se manca lo stare insieme, se manca godere la partita da parte dell'ospedatore, io penso che non si possa far calcio assolutamente. Da parte nostra non vogliamo neanche pensare di far calcio. Se è per 15 giorni o un mese può andare bene, ma se è per 4-5 mesi è meglio cominciare quando si è sicuri che si può avere il pubblico. Non ha senso far calcio in quella maniera, ma nessun tipo di sport senza il pubblico non ha valore. Il pubblico è una componente importantissima dello sport. L'emozione, lo stare insieme, scambiare due parole, bere una birra, fa parte del mondo del dilettantismo. Questo non si può, non si può assolutamente. Io non sono d'accordo a cominciare senza il pubblico. Presidente, direttore, scusami, ti ho promosso presidente. Ma prima o poi ti toccherà. No, no, non mi appartiene quel ruolo. Direttore, è verosimile magari un avvio di campionato, si parla di metà, settembre, insomma, primi di ottobre, con capienze ridotte magari negli stadi, proprio per agevolare anche le società a livello di incasso con il bar dello stadio, piuttosto che la vendita dei biglietti. Insomma, questo sarebbe secondo te un compromesso accettabile? Non riesco a pensare come si possa fare con delle persone, tot persone o altro. È difficile gestire una cosa del genere. È difficile perché al bar non si può aprirlo di sicuro quando c'è questa situazione. Secondo me è difficile pensare. Bisogna partire quando c'è la certezza che la gente può venire a vedere la partita. Sennò è neanche inutile iniziare a fare calcio o qualsiasi sport. Questo è un punto di vista mio, ma lo sento che è un punto di vista di tante persone che fanno parte del sport. Abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato del capitolo tifosi, del capitolo economico, quindi le difficoltà a cui andranno incontro le società sportive, ma a livello di spirito come si riparte dopo dei mesi che ci hanno sicuramente provato sotto ogni punto di vista? Penso che la gente abbia bisogno di ritrovare queste domeniche, questi momenti, questo stare insieme. Questa è un'esigenza che io sento tutti i giorni quando incontro le persone, quindi benvenga che si possa iniziare a far calcio come l'abbiamo fatto fino adesso. È veramente un toccasana anche per il paese, per la gente, per la popolazione di passare questo momento che abbiamo passato. È un'esigenza secondo me che speriamo arrivi prima possibile perché la gente ne ha bisogno veramente. Direttore, facciamo un piccolo passo indietro. Ritorniamo a parlare di quelle che possono essere le difficoltà organizzative, strutturali ed economiche di una società in serie D. È notizia di questi giorni che ci sono altre due, probabilmente due o tre società del Gerone C che stanno valutando l'ipotesi di iniziare ad allenarsi di sera per consentire ai propri tesserati di andare a lavorare durante il giorno. Il Cartigliano da sempre ha adottato questa politica, si allena la sera sin dal primo giorno in cui si è affacciato sul panorama calcistico dei dilettanti. È il segnale che qualcosa sta cambiando, che qualcosa è cambiato, che il calcio dilettantistico e i calciatori dilettanti meritano anche un altro tipo di tutela e di essere considerati magari o solo dilettanti o professionisti? Da noi abbiamo fatto sempre... il giocare e il lavorare dei nostri giocatori è stata una cosa che abbiamo sempre noi portato avanti. In serie D è un professionismo falso, nel senso che uno si trova a 30 anni, è come non avesse mai lavorato, però si trova che non ha né un risparmio, né un lavoro, né qualcosa su cui possa puntare per il futuro della sua vita. Secondo me avere la possibilità di lavorare e quindi di fare una serie D, di sbagliare qualcosina, quello che ti permette anche di avere dei risparmi, penso che sia la soluzione più giusta. Vedo che qualche società sta pensando a questo, a attuare questo che abbiamo attuato noi da diverso tempo, è una soluzione importante, è insostenibile una serie D, dopo in serie D c'è il Palermo come il Cartigliano, c'è il Foggia come il Cartigliano, ma stiamo parlando di cose completamente diverse, quindi i paesi o le piccole cittadine, è difficile sostenere una serie D professionistica, quindi bisognerà per forza di cose tornare a un dilettantismo che sia un dilettantismo come il nostro. Secondo noi la serie D è come quella del Cartigliano, di qualche società che dà mai, qualche altra squadra che ha sempre fatto calcio in questa maniera. Direttore, abbiamo sentito in questi giorni in esclusiva sia il Presidente della Lega Nazionale di Lettanti Veneto Giuseppe Ruzza, sia il Vice Presidente Vicario Patrick Piton, che hanno parlato appunto di calendario fitto dal momento in cui si riprenderà a giocare e della speranza insomma che non ci saranno interruzioni, soste dovute chiaramente all'emergenza sanitaria. Oltre che unirci in questa speranza, che fatica, che tipo di problemi può comportare un calendario che presumibilmente sarà ancora più fitto di quello dell'anno scorso? Certamente giocare durante la settimana non è facile per chi lavora o per chi non ha l'illuminazione quindi non può giocare la sera, però se c'è qualche sofferenza da fare per un anno bisogna farla, bisogna portare pazienza e praticare il calendario che attoeranno. Noi cercheremo di farlo, dando un aiuto anche ai nostri giocatori se c'è da fare qualcosa in più dell'anno precedente, però aspettiamo, vediamo, perché ci sono tante cose che non sono ancora sicure secondo me, tanto si può iniziare a settembre che a novembre che a gennaio aspettiamo, secondo me fra un mese, un mese e mezzo, due mesi c'è un po' di più chiarezza e poi si può programmare, se no sono tre mesi che tutti dicono un giorno una cosa, un giorno l'altra e non si sa mai niente, aspettiamo una certezza. Comunque la voglia di ripartire è talmente tanta che vale la pena anche fare qualche sacrificio, giusto? Certamente, certamente, anche due sacrifici, l'importante è ripartire. Bene, io saluto il direttore sportivo del Cartigiano Leopoldo Toresin, lo ringrazio di essere stato con noi e l'appuntamento con tutti voi, come sempre, è ogni sera alle ore 20.05, qui a Sport in Casa, qui su Rete Veneta. Grazie. Amici sportivi, ben ritrovati. Siamo ritrovati nel salotto di Sport in Casa, la trasmissione che ha ripreso regolarmente i suoi appuntamenti quotidiani alle 20.05, carne al fuoco ce n'è tanta perché siamo stati quasi tre mesi senza sport, senza calcio, senza vivere le emozioni a cui eravamo abituati e allora andiamo a conoscere da vicino protagonisti di fatti di cronaca sportiva e non solo. Abbiamo qui con noi l'allenatore, il nuovo allenatore dell'Eurocalcio, mister Marco Fabian. Buonasera mister. Ciao Alex, buonasera a tutti. Abbiamo parlato di, ho fatto accenno all'attualità sportiva proprio perché è notizia, insomma, di pochi giorni fa il tuo approdo a Cassola, sponda blaugrana. Allora come mai, dopo Rosà, hai scelto questa nuova avventura all'Eurocalcio? Ma è stata una scelta dettata dai programmi di questa società. Programmi tra virgolette ambiziosi, pur dopo questi due mesi molto difficoltosi da un punto di vista dell'industria e quindi delle sponsorizzazioni e delle ambiziosi sia da un punto di vista di affrontare un campionato con una squadra molto molto competitiva, ma anche di affrontare un campionato con la premessa di poter lanciare molti giovani del vivaio dell'Eurocalcio, che è un vivaio conosciuto in tutto il Veneto. Io penso che a livello dilettantistico dopo due o tre realtà nel Veneto ci possa star dentro l'Eurocalcio, l'ha dimostrato negli anni. Ecco, informiamo chiaramente, non tutti i telespettatori conoscono la situazione dell'Eurocalcio, una squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato con record nazionale di punti, guidata da mister Carlo Comacchio. Quest'anno, fino all'ultima giornata utile a febbraio, era prima in prima categoria e alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla Lega Nazionale Dilettanti sarà d'ufficio promossa in promozione. Quindi approdi in un campionato che tu conosci molto bene, perché appunto negli ultimi due anni hai allenato a Rosà, un campionato che da qua a quando inizierà, a settembre, insomma ottobre, quello che deciderà poi il Consiglio federale, lo scopriremo il 3 giugno, ma un campionato, come dicevo che tu conosci bene, c'è un mondo da qui a settembre da attraversare, fare ipotesi, fare premesse adesso è azzardato, però non c'è più il Bassano, verosimilmente non ci sarà più lo Schio, quindi due corazzate in meno, insomma l'ambizione è quella di fare bene, insomma. Sì, l'ambizione è quella di fare bene ed è stata anche causa della mia scelta, volevo aprire una parentesi e ringraziare il lavoro straordinario che ha fatto Carlo Comacchio, perché anche l'anno scorso tra virgolette lo si prendeva in giro, perché uno che ha fatto quel record di punti straordinario come l'annata della seconda categoria è un qualcosa di eccezionale, di straordinario, io non posso sapere il perché di una certa scelta, dopodiché è ricaduta su di me, io l'ho presa al volo perché è una società che ha ambizioni come ho detto prima, questo è il quanto. Erediti uno scettro pesante? Erediti uno scettro pesante, ma come due anni fa quando sono arrivato dopo Manolo, io preferisco arrivare dove si è lavorato bene prima, sinceramente, non penso si debba aver paura di questo, anzi trovi già terreno abbastanza fertile su cui poter lavorare, quindi come avevo ringraziato Manolo, ringrazio pubblicamente, come avevo ringraziato Manolo Destro ringrazio pubblicamente anche Carlo Comacchio del grande lavoro svolto a Cassola. Tra parentesi, Manolo tu lo ritroverai vicino di casa perché è il nuovo allenatore del Cassola, quindi insomma magari in amichevole ci sarà un derby. Molto probabilmente sì, vista anche l'amicizia che abbiamo. Dicevamo, campionato di promozione, con quali ambizioni e quali saranno le squadre, voglio dire, un po' più blasonate, quelle che temi di più? Perché ricordavamo, insomma, l'Eurocalce promosso, ci sono Rosà, Manosticenze, Cornedo, insomma. Fare un pronostico adesso è molto difficile perché le società dovranno prima valutare le risorse per poter affrontare questo campionato. Guardando un po' il passato, io penso che una squadra come il Cornedo che ha fatto molto, molto bene l'anno scorso e la parte finale dell'altra stagione sia una delle candidate. Il Marostica che ha dimostrato l'anno scorso di essere un'ottima squadra, lo stesso Rosà e penso che squadre tipo il Longare che l'anno scorso, la Calidonense che l'anno scorso ha fatto fatica, però avevano allestito una buona squadra possono tornare per lottare per i vertici di questo campionato. Mister, raccontaci un pochino prima di ampliare il discorso non solo al campionato di promozione ma alla realtà di lettantistica bassanese e trevigiana che tu conosci molto bene, raccontaci un pochino il tuo primo impatto col mondo dell'Eurocalcio. Ma è stato un impatto molto positivo perché da quello che sento in giro, da molti amici che ho nel calcio, ci sono tante teste basse in questo momento. All'Eurocalcio invece ho trovato gente con tanto entusiasmo pur dopo questo duro periodo che abbiamo affrontato tutti quanti. Questa è una grandissima forza, è una grandissima spinta per proseguire. Assolutamente. Dicevamo, conosci molto bene la realtà di Treviso, tu sei di Castelfranco, hai allenato nel trevigiano con grandi successi, con grande soddisfazione. Da due anni ti sei trapiantato nella realtà bassanese, sponda giallonera a Rosà, adesso l'Eurocalcio. Insomma, quali sono le differenze fra il calcio di queste due province, se ce ne sono? Allora, il calcio vissuto in provincia di Treviso l'abbiamo sempre vissuto come una specie di calcio, una leadership, nel senso che il calcio trevigiano era considerato e non conoscevo benissimo, pur conoscendo parecchi giocatori, non conoscevo benissimo le realtà del Vicentino. Però ho trovato, soprattutto nel bassanese, tanti giocatori che hanno affrontato campionati di professionismo, che adesso giocano in Serie D, che giocano nelle nostre categorie, tanti ottimi giocatori. È un calcio vivo, un calcio sano e società che con molto equilibrio ha saputo fare qualcosa di importante. Il fiore all'occhiello di questa situazione è il italiano che ha fatto delle cose incredibili in questi anni. Ecco, mister, è una domanda che facciamo spesso in questo periodo a tutti i nostri ospiti, a tutti quelli che toccano con mano la realtà del calcio locale, del calcio di zona. C'è una crisi, le società sicuramente avranno una flessione dal punto di vista delle entrate per la perdita di sponsor, eccetera. C'è anche la possibilità di iniziare la stagione a porte chiuse, quindi la perdita anche degli indotti e degli introiti per la vendita dei biglietti. Tu che sono due anni che lavori qui in zona, come giudichi la situazione del calcio bassanese a livello di solidità? Insomma, è pronto a resistere a questa onda d'urto oppure prevedi che ci saranno tante squadre che non si iscriveranno, fusioni o quant'altro? È difficile rispondere perché dopo ognuno fa i conti a casa propria, quindi è difficile. Non conosco tutte le situazioni in tutte le realtà del Vicentino. È una situazione difficile. Io ho parlato con degli imprenditori, sia del Vicentino che del Trivigiano, ci sono delle grosse difficoltà, però molti continueranno lo stesso a fornire un contributo al calcio. Diciamo che in questo anno ci saranno molte possibilità per i giovani di potersi esprimere, di potersi mettere in mostra. Non giudico positivissimo il fatto di affrontare tutto un campionato con solo giovani perché il giovane ha bisogno nel suo iter di addestramento oltre all'allenatore che può consigliarlo, ma anche un compagno in campo che possa consigliarlo. Quindi qualcuno d'esperienza ci dovrà sempre essere. Trovo secondo me un po' azzardato affrontare un campionato con solo giovani. Mi hai fornito indirettamente l'assist alla domanda successiva, ovvero per ripartire tante società stanno puntando sul settore giovanile. L'Eurocalcio, lo sanno tutti, ha uno dei settori giovanili più importanti a livello regionale e quindi ti chiedo, ma mi hai già risposto in parte alla domanda, se puntare sui giovani in questo momento qua, puntare più sui giovani è un obbligo, è un azzardo o è una cosa giusta e necessaria? Se posso dare un consiglio per l'esperienza mia, una società adesso come adesso, se vuole puntare sui giovani deve sbagliare il meno possibile su quei 4-5, tra virgolette, anziani che ci devono essere all'interno di una squadra, perché sono quelli che permettono al giovane di fare il salto di qualità. Dopo deve essere il giovane che deve pedalare e cercare di prendersi tutto quello che può prendersi per cercare di migliorare. Rimaniamo sempre a parlare del momento difficile che è iniziato e durerà per diversi mesi, per quello che riguarda le società dilettantistiche della zona. Alla luce di un budget più ridotto per il mercato, di meno entrate, di comunque tutta una serie di problemi legati a quello che ci siamo lasciati alle spalle, speriamo definitivamente. In tanti, tanti a dette lavori dicono che l'allenatore, il ruolo dell'allenatore sarà ancora più importante quest'anno, perché magari si potrà sopperire alla mancanza di quel giocatore talentuoso o quel giocatore sopra gli altri, con la tattica, con le idee, con il gruppo, con la capacità di trasmettere qualcosa ai giocatori. La pensi anche tu così? Sì, penso che possiamo anche essere importanti, però dopo in campo ci vanno loro. E quindi se hai dei giocatori che hanno determinate prerogative, determinate qualità, i risultati vengono fuori. Non penso si possa incidere in più o in meno. Diciamo che possiamo incidere sulla crescita dei giovani, se ce ne sono in più che possono disputare questo campionato di promozione, eccellenza o quant'altro. Insomma, mister, non hai voluto prenderti una responsabilità in più, essendo già all'interno di una società che un po' di pressione le mette, perché è ambiziosa. Credo veramente che sia così. Credo che nei 90 minuti tu puoi trasmettere tanto, però dopo in quei 90 minuti sono per loro, è la loro espressione. Dopo sono loro che decidono tante cose. Io sono convinto che noi possiamo essere diversi, poter dare delle cose giuste o sbagliate che siano, però i giocatori fanno diventare bravo un allenatore o lo fanno diventare mediocre. È pur vero che magari se trovi quel giusto mix tra te e loro, allora si possono fare delle grandi cose. Però sono sempre loro gli artefici di tutto. Mister, capitolo tifosi. Non si sa se i campionati inizieranno a settembre, a metà settembre, primi di ottobre. Non si sa appunto se le porte dello stadio saranno fin da subito aperte a tutti. Tu che idee hai a proposito? Speri che ci possa essere magari fin da subito il via libera per avere la cornice di pubblico? Io sono un tradizionalista del calcio e quindi io aspetterei anche un mese in più, ma vorrei che tutte le componenti che c'erano prima tornassero e quindi non vorrei che fosse tolto niente da questo sport. Mi auguro si possa procedere su questa strada e mi auguro che non ci siano più interruzioni. E' un parere che condividono tanti addetti ai lavori. Proprio ieri abbiamo ascoltato il direttore sportivo del Cartigliano che condivide, ha detto quasi le tue stesse identiche parole. Piuttosto si preferisce aspettare un mese in più, qualche settimana in più, ma che sia calcio vero. E quindi sono in tanti a pensarlo così. Ultima domanda perché il tempo stringe, ma quando la chiacchierata è piacevole, insomma non ci si accorge neanche, dei minuti che passano. Alla luce delle nuove direttive che dovranno essere approvate, ratificate dal Consiglio federale del 3 giugno, si ipotizzano gironi a 18 squadre per quello che riguarda la promozione. Quindi ci saranno più partite e ci sarà un calendario più fitto. sperando, chiaramente tutti, in nessun ritorno del virus e nessuna problematica legata all'emergenza sanitaria, sarà ancora più difficile gestire partite, energie, impegni con un campionato a 18 squadre. E' più giù vai di categoria, è più difficile gestire questo perché non dimentichiamo che sono tutti i ragazzi che lavorano, chi 8, chi 9 e chi addirittura 10 ore al giorno. Quindi partire dopo 10 ore al giorno di lavoro e andare a fare una partita infrasettimanale può essere difficile. È da gestirla. Chi ha una rosa un po' diciamo più competitiva rispetto alle altre può fare la differenza come l'ha fatto l'anno scorso il Bassano rispetto allo Schio che molto probabilmente nei venti aveva una rosa un po' più ampia. Mister, ci salutiamo con un'unica parola. Ti chiedo come si riparte? Con che cosa? Cosa non può mancare? L'entusiasmo, sempre. E allora ringraziamo Mister Marco Fabiano, nuovo allenatore dell'Eurocalcio in promozione. Grazie Mister per essere stato con noi. Grazie a te Alec. E l'appuntamento con noi e con voi, come sempre, tutte le sere alle ore 20.05, sempre qui a Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie. Buonasera.